La finanziaria regionale va integrata e rafforzata nelle misure che devono consentire di traghettare la Sicilia oltre l'emergenza sanitaria, superando le criticità esistenti e rilanciando l'economia, l'occupazione e lo stato sociale. Lo ha detto il segretario generale della Sicilia Alfio Mannino nel corso del confronto in teleconferenza con l'assessore regionale al bilancio Gaetano Armao sui documenti economico-finanziari della regione. Mannino ha evidenziato alcune criticità come la sovrapposizione delle misure regionali con quelle nazionali del decreto liquidità e la mancanza di interventi di natura strutturale e avanzato proposte che il Governo ha affermato che valurterà dando poi risposta al sindacato. Le parti comunque torneranno ad incontrarsi venerdì prossimo in vista dell'approdo in aula del testo previsto per il 27 aprile. Tra le proposte della CGL, il sostegno agli investimenti e le imprese per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, la riconversione delle attività produttive tenendo anche conto delle nuove esigenze dalle mascherine e pannelli in plexiglass, investimenti innovativi sul turismo tra i settori più colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria. Inoltre il sostegno alle aziende per il lavoro agile, il potenziamento degli ispettorati del lavoro e della medicina del lavoro. Sul piano socioassistenziale la CGL chiede misure per il rafforzamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria a partire al finanziamento di una rete regionale di comunità e prossimità. Quanto alle misure di sostegno al reddito, il segretario della CGL ha rilevato la vaghezza delle enunciazioni che l'arma ha detto perché rischia di essere causa di discriminazioni. È necessario, ha sottolineato Mannino, attivare ammortizzatori sociali in deroga per tutti i lavoratori non compresi nelle misure previste al Governo nazionale, tra cui colp, badanti, operatori del turismo, precari del sistema aeroportuale. Circa 150.000 lavoratori per un bisogno stimato di 220 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio, la CGL ha espresso preoccupazione per lo Stato dei Conti che potrebbe determinare problemi per il finanziamento di settori come forestazione e trasporto pubblico locale.